buongiorno buongiorno a tutti benvenuti nel canale benvenuti in questo nuovo video video dedicato al commento della situazione della fase a girondi della coppa davis poi ne uscirà ovviamente un altro dedicato al fanta tennis e al torne e ai tornei della prossima settimana i tabelloni della prossima settimana non appena usciranno vi farò il video per il fanta tennis prima di parlare appunto della situazione dei quattro gruppi terminata la seconda giornata ovvero quattro partite delle sei in programma dei vari gironi l'invito è come al solito a mettere like al video e iscrivervi al canale a lasciare un mi piace appunto il like a iscrivervi al canale ad attivare la campanella per avere le notifiche in tempo reale iscrivetevi 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 cerchiamo di raggiungere 700 iscritti siamo a oltre 660 quindi forza vediamo se entro fine settembre riusciamo ad arrivare a 700 me lo fate questo favore forza iscrivetevi non vi costa nulla grazie allora situazione nei quattro gironi partiamo dai definiti e due gruppi in cui bisognerà a prendere la calcolatrice il gruppo a e il gruppo b per sapere come andrà come andrà a finire all'inizio di questa avventura ovvero martedì scorso pensavamo per arrivare che arrivare primi fosse un vantaggio perché avremmo evitato la spagna e tutto a questo punto però la cosa cambia nel senso che se oggi il canada dovesse battere la serbia e quindi garantirsi il primo posto del girone non so quanto ci converebbe vincere il raggruppamento per due motivi prima di tutto perché vincendo il nostro raggruppamento finiremmo nella parte di tabellone dove in semifinale troveremo la spagna e poi se guardate gli orari che sono stati fatti dalla cosmos direi abbastanza a mascalzoni perché la vincente del gruppo b gioca il suo quarto di finale il martedì e affronta in semifinale il quarto di finale che gioca il mercoledì quindi i due quarti di finale della parte bassa del tabellone si giocano della parte alta del tabellone si giocano il martedì e il mercoledì e qui ci dovrebbe ci doveva nelle loro intenzioni essere la spagna che avrebbe avuto due giorni di riposo tra il quarto e la semifinale e un giorno di riposo pieno tra la semifinale e la finale cosa succedeva alla prima del girone a ovvero in teoria teoria mente all'italia che avrebbe giocato il suo quarto di finale il giovedì mattina alle 10 ci doveva essere il quarto tra la prima del gruppo a e la seconda del gruppo b alle 16 ci doveva essere l'altro quarto di finale e e la semifinale si doveva giocare il sabato tipo alle alle 1 di pomeriggio roba del genere alle 12 alle 1 di pomeriggio non dando nessun giorno di riposo dando un solo giorno di riposo tra il quarto e la semifinale e un e nemmeno 24 ore di riposo tra la semifinale che la finale tutto questo chiaramente avvantaggia la parte del del tabellone in cui doveva finire la spagna in cui a questo punto non si sa se finirà la spagna è ovviamente una cosa che io l'ho vista ieri perché mi sono messo a guardare gli incroci però è veramente era veramente studiata per portare la spagna nella miglior condizione possibile con tutti i migliori vantaggi già giocare in casa poi avere due giorni di riposo tra il quarto di finale la semifinale avere un giorno di riposo tra la semifinale e la finale hai detto scansati insomma non è una competizione equa sarebbe stato molto più giusto giocare due quarti il martedì due quarti il mercoledì dare a tutte e due il giorno di riposo il il giovedì fare le due semifinali il venerdì e dare il giorno di riposo il sabato e poi giocare la finale la domenica spalmare gli incontri in questo modo vuol dire chiaramente avvantaggiare tantissimo la prima del gruppo b e la prima del gruppo via a questo punto rischia di essere il canada e non so quanto a noi non convenga trovare il canada nei quarti di finale cioè parliamoci chiaro prendersi canada a una tra australia e germania forse si la germania ma la germania non la possiamo incontrare nei quarti perché noi possiamo trovare o la seconda del gruppo b o la prima del gruppo via arrivando secondi o la seconda del gruppo di arrivando primi che potrebbe anche potrebbero anche essere gli stati uniti perché se gli stati uniti perdono con l'olanda noi becchiamo gli stati uniti arrivando primi del nostro girone non è che ci sia tutta questa differenza tra prendersi il canada prendersi l'olanda prendersi gli stati uniti però avere due giorni di riposo poi un giorno di riposo in più arrivare in finale magari un pochino più più riposati rispetto a chi finisce nell'altra parte di tabellone che gioca giovedì sabato domenica insomma io un pensierino a non vincere con la svezia a questo punto ce lo farei e a cercare di arrivare secondi però vedremo un po se volanti sarà di questa opinione era solo per farvi capire il perché oltre a essere uno proprio questa formula il fatto di giocare in questi giorni diversi alla fine va avvantaggiare la squadra di casa che è già avvantaggiata dal dal fattore dal fattore pubblico dal fattore dal fattore ambientale da tutto ciò che volete mi mettete anche che il suo quarto di finale si gioca il martedì poi si gioca il venerdì e poi gioca il sabato avendo sempre un giorno di riposo e arriverete a capire come la coppa è stata costruita per farla vincere alla spagna come del resto è stato fatto nelle edizioni precedenti chi lascia come il proverbio la strada vecchia per quella nuova sa quel che perde ma non sa quel che trova la nostra federazione ha deciso di affidare la coppa a squadre più importante del mondo a una ad un'organizzazione spagnola e adesso ne subiamo le conseguenze io ho detto questo vi saluto vi rimando al video che uscirà per i tornei del fanta tennis mi raccomando iscrivetevi al canale mediante il link che troverete in descrizione del video del fanta tennis intanto unitevi al gruppo telegram e poi magari potete iniziare a partecipare a questo fanta tennis per poi partire con la prossima stagione con l'altro con l'altro contest con l'altro gioco che sarà uguale è però sarà una seconda edizione partirà appunto con la stagione 2023 vi saluto a tutti grazie a tutti buona a weekend e ci vediamo dopo